Il quarto stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo è un'opera che sicuramente è entrata nel nostro immaginario collettivo. Fa parte delle immagini pubblicitarie, cinematografiche, ma anche artistiche, sicuramente del Novecento, ma anche attualmente viene spesso usata come immagine per ricordare il primo maggio, per ricordare l'otte dei lavoratori. È diventata cioè una sorta di icona del lavoro del Novecento e questo grazie alla sua storia, ma anche grazie al lavoro preparatorio e al pensiero di Giuseppe Pellizza da Volpedo. Infatti basta vedere alcune immagini del Novecento, del film Novecento, la schermata iniziale è appunto questa, ma anche un personaggio, un artista, un rivoluzionario, un agitatore politico come è stato Joseph Beuys interpreta la figura centrale in questa camminata che è poi diventata una famosa opera d'arte. Bisogna aggiungere inoltre che quest'opera ha un significato importantissimo per la città di Milano, nel senso che è stata acquistata con una sottoscrizione collettiva nel 1920, un primo esempio di crowdfunding diremmo noi adesso, grazie a una sottoscrizione partita dal Corriere della Sera a cui parteciparono circoli di lavoratori, a cui parteciparono semplici cittadini, non solo il giornale stesso, oppure grandi artisti o estimatori dell'arte, collezionisti dell'epoca. Proprio perché a parte Milano in quegli anni viveva il Bienio Rosso e aveva un significato molto particolare nel Bienio Socialista di Milano degli anni venti, ma anche proprio perché rappresentava la città, l'attività lavorativa della Lombardia, tant'è che poi ovviamente subito acquistata fu esposta nella sala della balla al palazzo, alle civiche raccolte del castello Sforzesco, ma poi ovviamente negli anni 30 sotto il fascismo l'opera venne fatta sparire all'interno di qualche deposito. Ed è significativo il fatto che all'inaugurazione del nuovo, del restaurato Palazzo Marino, la sede del Consiglio Comunale di Milano, il sindaco Virginio Ferrari ha la presenza tra l'altro del Capo dello Stato nel 46, anzi nel 54 scusate, la città nel proprio discorso inaugurale del rinnovamento del Palazzo del Consiglio Comunale. Egli dice, sto citando, l'opera viene inserita a simboleggiare questa marcia che viene ripresa verso la giustizia sociale, ciò che significa verso la pace e la libertà. a simboleggiare un altro elemento che si è voluto ignorare, quello della fraternità, di una fraternità profondamente umana e cristiana che spontaneamente ispira e che dovrebbe ispirare ogni conquista spirituale, politica e economica degli uomini. Quindi capite bene che si tratta di un'opera assolutamente simbolica. Poi negli anni 80, alla fine degli anni 70, in occasione di una mostra venne pulita, venne mandata in restauro tra l'altro in Francia e da allora prima venne esposta alla permanente e poi adesso sapete che inaugura un altro luogo simbolo di Milano che è il Palazzo del Museo del Novecento nell'Arengario. All'inizio della scala elicoidale bellissima di Italo Rota c'è quest'opera che tra l'altro non appartiene all'ingresso del museo, cioè non è oltre il tornello. A simboleggiare che è un'opera di tutti, che tutti possono entrare a vedere senza neanche fare il biglietto. Cioè quindi capite che l'opera ha assunto all'interno dei valori della città di Milano un ruolo importantissimo. Ecco, per capire però come Giuseppe Pelizza da Volpedo è arrivato a questo risultato bisogna che ripercorriamo i dieci anni di studi che hanno portato a questa elaborazione, dove lui da una parte si rifà al realismo ottocentesco e ai grandi quadri monumentali dell'Ottocento. Io con voi a lezione ho sempre parlato di quadri epici, cioè quadri le cui misure assumono una validità universale, proprio le misure fisiche dell'opera e i personaggi assumono misure reali, cioè sono di dimensione reale, sono addirittura maggiore, cioè figure che hanno una forza fisica, no? Di presenza reale in misura, ma che si, voglio dire, traspone allegoricamente in una forza morale, anche per il significato stesso che essi hanno. Quindi lui traduce il realismo ottocentesco però in un linguaggio simbolista che deriva appunto dalla matrice sia francese sia italiana e simbolista, scusatemi, e divisionista, quindi un lessico assolutamente rigoroso dal punto di vista scientifico. Questa scientificità deve per forza appartenere a un quadro del genere, perché altrimenti rischierebbe di diventare anedottico e fermarsi all'aneddoto. Invece, come appunto adesso vi spiegherò, lui passa da un aneddoto a un valore universale tramite una affermazione dei grandi valori della pittura, rinascimentali e anche appunto divisionisti, cioè parte da questo elemento, da questa scena che è Ambasciatori della fame, un bozzetto di probabilmente preso velocemente durante una manifestazione realmente accaduta nel proprio paese natale che è appunto Volpedo, una località in provincia di Alessandria. Qui vedete la piazza Malaspina, Volpedo, in cui probabilmente giungendo da questa via la folla si è ammassata con questi tre personaggi che hanno proceduto la folla. Riconoscete questo edificio che è questo nella foto, qui vedete la foto viene presa dall'alto, mentre riconosciamo nella bozzetto di Pellizza una ripresa fontale in cui si evidenziano proprio i personaggi. vi faccio notare anche questa grande ombra che c'è davanti. Il bozzetto viene elaborato in un altro bozzetto che lui intitola successivamente, sono passati tre anni, sono gli anni, apro una parentesi, della nascita della Lega delle Cooperative, quindi sono gli anni in cui i contadini, le mondine, nella fattispecie ad Alessandria, per cui si capisce anche la presenza delle donne, vedete qui sullo sfondo, prendono coscienza del proprio ruolo di lavoratori sfruttati e quindi cominciano a manifestare, a scendere in piazza. Lui vuol dare dignità a queste persone e in Fiumana aumenta la folla, aumenta la folla mantenendo questo punto di vista basso, però comincia ad eliminare, come vedete qui, la zona d'ombra e dare molto più risalto alla zona di luce e soprattutto alla massa. Cioè è una Fiumana e una Fiumana è qualcosa di dirompente, che non si può fermare, è appunto un progno, diremo noi a Verona, che nel momento della piena spazza via tutto quello che è calmo, tranquillo, quando non piove troppo, però nel momento della piena spazza via tutto quello che ha intorno a sé. Ma Fiumana è anche un termine abbastanza inconsapevole, perché è qualcosa che comunque dirompe senza una riflessione. E successivamente giunge alla tela di Fiumana e capite bene che sono passati tre anni dal bozzetto, la tela è 438, cioè una tela di grandi dimensioni, che già assume appunto queste tela, queste dimensioni che possiamo definire epico-monumentali, e compare la figura femminile, compare una figura molto sciolta, addirittura molto elegante, con forse anche un andamento molto vicino ai pre-raffaeliti, però si configurano, vedete, questi due personaggi molto più chiari, molto più evidenti, ma la tela è ancora dominata dai colori freddi, ma soprattutto la folla è abbozzata. Lui lascia lì il dipinto, lo abbandona perché è troppo, non è contento, non va ancora bene. E inizia un altro lavoro, intanto non vi ho fatto notare prima che comincia a usare tele centinate, cioè tele che non hanno più il formato rettangolare, ma usa una sorta di arco, quasi una lancona superiore di una pala religiosa, abbassa ancora un po' il punto di vista, però si comincia a configurare molto più vicino il risultato finale, cioè il gruppo della seconda linea comincia ad essere identificato molto di più e si riuniscono a gruppi i personaggi. Infatti in questo periodo, tra le due opere, cioè tra Fiumana e Il cammino dei lavoratori, c'è poca, c'è subito un momento di riflessione che è dovuto a un viaggio precedente. Qui lui è scontento e comincia a riflettere sempre di più su come procedere e quali forme dare. Ecco, questo studio e questo cambiamento avviene sulla scorta di viaggi, visite, contatti e letture. Cioè un artista non è che cambi perché dentro di sé trova tutto. Il focus qui è un artista che fondamentalmente grandi capacità ma studia e prende in mano i testi sul divisionismo, prende in mano Raskin che è questo grande poeta, pensatore, artista, fondatore di tantissimi movimenti di pensiero soprattutto in Inghilterra, viaggia, va a Firenze, vede il grande rinascimento italiano, cioè mette, va alla ricerca di forme che abbiano un senso per lui e che abbiano un forte significato identitario per l'Italia, per l'arte italiana, ma in generale per l'arte dell'umanità. A questo proposito lui dice che quando giunge a questa, all'opera finale, cioè al quarto stato, è un pensiero continuativo di un decennio che non riesco, non riuscì a concretizzarlo se non dopo aver evoluto la mia arte con molto lavoro e altrettanto pensiero. Ma questo pensiero fu scevro per lui, qua intervengo io, scusate, fu scevro da tutti quelli che erano i pensieri della famiglia, i problemi, lui non viene da una famiglia ricca che lo può mantenere, è un figlio di un piccolo proprietario di terreni dell'Alessandrino e si racconta appunto che lui fosse lì irritanato nel suo studio a Volpedo senza neanche mangiare, che la famiglia gli portasse da mangiare. Ecco, ma lui a un certo punto, dopo tutto questo studio, arrivò a concepire un, leggo, avanzarsi animato di un gruppo di lavoratori verso la surgente luminosa a simboleggiare nella mia mente tutta la grande famiglia dei figli del lavoro. L'idea calata nell'opera è dunque il futuro luminoso verso i cui i lavoratori avanzano volgendo le spalle al crepuscolo e al passato uniti e fiduciosi in un progresso sociale. Non mi fermo a sottolineare il valore politico di queste parole, la trasformazione e la fiducia anche nel progresso, mentre vi faccio il confronto con gli intellettuali francesi Gauguin in primis che nel 98 è già bello andato in Polinesia francese, anzi ormai è nelle isole marchesi, a fuggire da questo progresso, però appunto facciamo il contesto italiano che sta giungendo adesso alla rivoluzione industriale. Però ecco non mi soffermo su questo, mi soffermo invece sullo studio, perché come è arrivato a questa definizione del quarto stato? Intanto lui prima aveva lavorato, cioè in cammino dei lavoratori, già è arrivato allo studio di queste figure, ma prima ancora tutta la figura, tutta la scena retrostante era spesso basata su fotografie dei suoi compaesani. Allora il lavoro grosso che lui inizia a fare è quello dello studio delle figure e le studia dal vero. Questo è Clemente Bidone, è uno dei personaggi che lui ritrae dal vivo e nel passaggio al ritrarre dal vivo le forme acquistano una monumentalità diversa, cioè acquistano una forza plastica diversa e il parallelo che vi posso fare, che voi avete studiato, è quello di Raffaello. Cioè il passaggio dalla copia del maestro, in questo caso poi tra l'altro la copia della fotografia, alla copia dal vero per un grande artista significa acquistare naturalezza, ma anche acquistare una plasticità diversa, un approfondimento dei chiaroscuri, una fisicità diversa. Quindi intanto lo studio dal vero, poi anche in questo caso lui fonde questo per esempio a Giovanni Zarri, un altro dei modelli, fonde la figura del padre in questo volto, cioè cerca di anche mettere delle altre caratteristiche magari più personali, questo è il ritratto del padre che c'è nello studio di Volpedo e la figura maschile è ispirata all'operaio. Cioè lui dice qui che non solo prende dal vero, ma anzi copia gli atteggiamenti, le posture di personaggi che conosceva in paese, significando, dando loro significato quasi di tipologie umane, no? Quasi di modelli umani. Questo è per esempio il contadino e questo per esempio appunto l'operaio. Lui vedeva gli operai andare in giro con la giacca sulla spalla e la mano infilata nella camicia. Per la figura della donna usa la moglie, utilizza la moglie Teresa, però anche a lei possiamo, anche con lei, anche nel suo caso possiamo vedere appunto questa evoluzione. Vedete come si passa da un segno fluido, libero, molto pre-Raffaelita, molto elegante, a una concretezza di disegno dal vero che è questo, a una elaborazione poi pittorica che approfondisce ancora di più questi valori plastici, questi valori di concretezza, di fisicità della figura femminile, tutto studio. Poi ancora, prima dell'elaborazione di quarto stato, lui introduce i gruppi, cioè il cartone già con i gruppi, quindi fa una, proprio una riflessione sul concetto di gruppo, sul concetto di relazione tra la prima fila, no? E questo ovviamente gli viene da Leonardo, gli viene dall'ultima cena, cioè non pensa più, e questi cartoni sono due, io vi ho messo solo la schiera di destra, non pensa più al singolo personaggio, ma già pensa alla relazione, già pensa ad una disposizione proprio di relazioni tra i personaggi e questo cambia moltissimo l'opera, perché effettivamente qui sulla parte retrosta non solo i tre personaggi che colgono la nostra attenzione nel loro incedere, ma sono proprio la prima fila, anche dietro sono tutti personaggi su internet, ho trovato un sacco di siti dove sono nominati proprio i soggetti che lui ha preso come modelli, però appunto la prima fila che a noi interessa, vedete come possiamo riconoscere la divisione in gruppi da tre, che è proprio leonardesca, la gestualità, le relazioni, i moti dell'animo, mi verrebbe da dire, di Leonardo, infatti uno dei modelli che lui usa, uno dei punti di riferimento che lui usa, è proprio l'ultima cena leonardesca, perché? Perché i gruppi danno l'idea di una relazione tra i singoli gruppi, oltretutto vi faccio notare il collegamento anche dei numeri, le persone qui dietro nella prima fila sono dodici, dodici come i dodici apostoli e qui invece di avere centrale la figura di Cristo abbiamo una triade, abbiamo tre persone che possono simboleggiare vari aspetti, le tre età dell'uomo, i tre tipi di lavoro, il lavoro femminile che comunque ha una sua importanza, il lavoro del contadino, il lavoro dell'operaio, qualcuno dice, qualche critico anche accenna al fatto alle tre anime del socialismo di Pellizza. Ecco, l'altro riferimento sicuramente nella composizione è la stanza di, le stanze vaticane e la stanza della scuola di Atene, questi gruppi con al centro le due persone che sono animati ognuno da un interesse e da una discussione e poi proprio il discorso del movimento, della gestualità, cioè della retorica, come direbbe Aristotele, di questi personaggi, cioè ciò che loro comunicano è dato dalla loro gestualità, dal loro muoversi, dal loro rivolgere gli sguardi. L'altro modello sicuramente è Courbet, è Courbet sia nelle grandi dimensioni, è Courbet sia nell'uso di questi modelli dal vero, ma anche vi faccio notare per quanto riguarda proprio l'aspetto compositivo per questo movimento onda, movimento che in qualche modo riflette il paesaggio che c'è dietro. Infatti, rispetto alle prime versioni, lui depura qui, toglie tantissimo del paesaggio, se vedete non sono più le case, ma diventa un paesaggio naturale, quasi un senzatempo, in cui la folla che ha questo andamento proprio leggermente asinusoide, ricopia, si ispira, riflette il movimento che c'è dietro. Questo appunto l'abbiamo già visto ed è la questione anche delle citazioni e adesso partiamo con le citazioni vere e proprie, perché un'altra caratteristica di quest'opera è che l'autorevolezza dei singoli personaggi, la grandezza dei singoli personaggi è data dal riferimento a opera del rinascimento italiano, cioè la scientificità, l'autorevolezza totale dell'opera globale viene proprio riferita al fatto di essere come una grande opera rinascimentale, di afferrare la grande tradizione italiana e diventarne un'erede. In questo senso lui dà dignità ai personaggi, questi personaggi che sono senza dignità in virtù del loro ceto sociale, l'acquistano venendo immortalati all'interno di un sistema di classificazione dell'arte che vede Raffaello, Michelangelo, Leonardo, Tiziano, come adesso vi farò vedere come i grandi, quindi queste persone ricevono la dignità dei grandi e partiamo con queste citazioni, la mano, vedete il gesto della mano, il gesto della mano del Davide di Michelangelo, di Clemente e poi ancora la gestualità delle stanze vaticane, proprio i gesti che vediamo citati quasi letteralmente. E poi ancora tutti questi personaggi con questi copricapi che effettivamente assomigliano ai copricapi dell'epoca, dei contadini, questa specie di cappellacci di feltro, diventano una citazione di Piero della Francesca sia nella forma ma soprattutto nelle ombre. Ecco il sogno di Costantino e la battaglia di Cosroe sono nel ciclo della Veracroce a San Francesco d'Arezzo e qui vediamo proprio la citazione netta, ce ne sono tantissimi di queste sorte di cappelli casco e poi la figura della donna all'estrema sinistra, figura elegantissima, elegantissima, raffaellesca proprio. Qui vi ho fatto due citazioni che probabilmente tra l'altro sono lo stesso personaggio, si tratta di Francesco della Rover, qui è nella disputa del sacramento e qui invece nella scena della scuola di Atene, siamo sempre nella stanza della segnatura. Quindi vedete proprio l'eleganza del gesto, l'eleganza della camminata, i piedi, guardate qui il riferimento è proprio questo. E poi andiamo a Masaccio, tutti i critici parlano dell'ispirazione a Masaccio per quanto riguarda la forte plasticità, cioè queste pieghe, queste panneggi scusatemi con questa fortissimi chiaroscuri non possono non ricordare la plasticità scultorea di Masaccio sia nella Trinità che nel Tributo, il Tributo poi c'è tutto questo discorso dei gesti e degli sguardi che appunto diventa fonte di ispirazione. Però qui ragioniamo in primo luogo sulla questione dei panneggi, di come i vestiti di Masaccio acquistano una solidità scultorea e come la stessa cosa succeda nei personaggi di Pellizza. E poi ancora, la donna, l'incedere della donna non può non ricordare la niche di Samo Traccia a Parigi, adesso a Louvre appunto. Come questa donna, questo ginocchio ricordi la ricerca della scultura ellenistica del tessuto sopra l'anatomia, l'incedere della donna in avanti. E poi ancora con le espressioni, le espressioni, la ricerca espressiva qui unisce la questione dell'ombra alla forte plasticità di Masaccio, cioè la ricerca dell'ombra, scusatemi di Piero, alla forte plasticità di Masaccio. Ma ricordate in Masaccio questa ricerca proprio espressiva che, derivando, pur derivando da Giotto, raggiunge in Masaccio vette straordinarie. E qui c'è, qui io vi ho fatto solo l'analisi dei primi personaggi, dei primi tre, ma c'è in tutti i personaggi. E poi appunto andiamo a questa definizione della figura, anche le figure minori, questo è l'estrema destra, invece, si ispirano al Tobia di Tiziano, l'angelo e Tobia di Tiziano, di Filippino Lippi, è un topos, insomma, della letteratura iconografica religiosa. Nulla è lasciato al caso in queste figure, no? Anche qui vedete la scultura greca di questa donna. Altrettanto potrei dire della ricerca pittorica divisionista. Nell'ultima opera lui concretizza proprio, e lo vedete dai dettagli, lo vedete qui dai dettagli, concretizza un modo di dipingere che è di puntini e trattini, di colori chiari su una base chiara, imitando perfettamente la pittura contemporanea francese, le ricerche francesi che ormai erano giunte in Italia, erano tutti in Italia, sia moltissimi testi che riguardavano la combinazione dei colori, l'uso della pennellata, eccetera, eccetera, che lui studia, che studia, annota e anche, ed erano arrivati anche moltissimi colori. Soprattutto l'azienda Lefranc, ne abbiamo parlato anche per quanto riguarda i post impressionisti, è un'azienda che commercializza colori in Italia, e ovviamente la frequentazione di Pellizza con Milano, dove ha studiato in accademia, perché lui ha una formazione accademica, lo porta a sperimentare questi nuovi colori. e la sperimentazione divisionista diventa in questo dipinto, capite bene, in due anni, perché in Fiumana non c'è in tre anni, possiamo dire, in Fiumana ancora non è presente un lavoro così preciso, è ancora una pennellata, diciamo così, ottocentesca, quella del cammino dei lavoratori, qualcosa già, ma neanche, perché anche qui la pennellata è proprio una pennellata ottocentesca, e non la pennellata già divisa, che vediamo appunto in questo dettaglio. È una pennellata linguette, a filetti e puntini, cioè mescola tutti e due i sistemi. Ma perché? Perché dà scientificità una scena. La scientificità di questa scena ne sottolinea la verità, e questo è il passaggio fondamentale, cioè usare uno strumento tecnico, come quale è la pittura divisionista, il colore divisionista, per dare verità. Scientifica una scena, per darle forza, per darle autorevolezza. Ecco, qui chiudo questo intervento sul quarto stato. Gli approfondimenti li potete trovare nelle note, sul video, per le bibliografie che ho utilizzato.